Tre filiere, due tradizionali ed una emergente e un plafondo importante di contributi provenienti dal PSR a disposizione degli agricoltori umbri e in particolare per una di queste colture il nocciolo per gli operatori dell'Alta Umbria. Se ne è parlato stasera la Spirelliana di Gubbio in un incontro di approfondimento sul tema bandi del PSR e quali opportunità per il settore agricolo a filiera promosso dal Comune e dalla Regione con la collaborazione delle associazioni di categoria. Molto partecipata all'iniziativa che ha visto l'illustrazione dell'assessore comunale di Gubbio Giordano Mancini e tra gli altri gli interventi di Giuliano Polenzani dirigente della Regione e le conclusioni dell'assessore regionale dell'agricoltura Fernanda Cecchini. La Regione ha inteso inserire all'interno del PSR una modalità di gestione degli aiuti che vede un approccio partenariale attraverso delle azioni di cooperazione che coinvolgono sia i produttori agricoli che soprattutto la parte industriale che con i produttori agricoli attraverso dei contratti di filiera appunto stabilisce dei rapporti commerciali che intendono valorizzare alcune delle produzioni principali della nostra regione. Per adesso abbiamo puntato su tre filiere fondamentali, due che rappresentano quella del latte e quella dei cereali che rappresentano chiaramente produzioni storiche importanti a livello regionale, anzi diciamo che dal punto di vista proprio del valore le produzioni sono le più importanti a livello regionale e di una filiera che è quella della frutta in guscio che presenta delle opportunità di sviluppo e di diversificazione delle produzioni regionali che vorremmo cogliere almeno a livello di numeri che possano farci comparire come interlocutori attendibili sul mercato mondiale. Oggi presentiamo diversi bandi insieme anche con la regione, con le associazioni di categoria però è molto importante rinnoviamo anche l'attenzione sul bando per la filiera del nocciolo che sta partendo con grande prospettive, una filiera che per la prima volta già ha un mercato garantito perché ricordiamolo che per 20 anni avremo l'intera produzione già acquistata con un prezzo già deciso oggi, ci sono varie aziende di diverso tipo, non sto qui ovviamente a dire i nomi che già si stanno muovendo su questo territorio, il nostro territorio è molto adatto per questa coltivazione tant'è che già da molte parti l'abbiamo come coltivazione storica quella del nocciolo quindi spero che i nostri concittadini possano sfruttare questa via di sviluppo e questo nuovo trampolino per l'agricoltura. Questo è un bando particolare su cui abbiamo messo 9 milioni di euro perché va a finanziare tre filiere, quella del latte, dei cereali e del nocciolo e la filiera aiuta nel territorio perché mette insieme le imprese e riesce anche a fare economia, a razionalizzare investimenti per quanto riguarda ad esempio tutte le attrezzature che possono essere necessarie e al tempo stesso con la filiera c'è la certezza dei contratti e quindi di conferire il prodotto ad un soggetto che è certo. Questo è importante perché spesso le dinamiche dell'agricoltura sono le prese sia con le calamità naturali che con quelle dei mercati.